Al Giardino della Legalità, in data 23 maggio 2017, è stata donata una casa dell'acqua. Il signor Mammana, un cittadino che è del quartiere San Luca? Sì, via Michelangelo. Io sono Angelo Mammana, abito in via Michelangelo, Palastina B. Volevo fare un'osservazione. Hanno donato questo sistema, come vogliamo chiamarlo, dal Giardino della Legalità per un distributore di acqua. E naturalmente è funzionato. La prima volta, praticamente, quando l'hanno augurato, l'hanno augurato il 23 maggio 2017, quando c'è stata l'inaugurazione, e dopodiché è finito di fare. Io, dato che abito qua vicino, potrei andare a utilizzare quest'acqua perché sia potabile, veramente, invece di andare a comprare acqua minerale, posso comprare praticamente quest'acqua. E mi posso andare a fare una scheda come io, c'è l'altra scheda da altri punti della città. Non capisco perché l'hanno messo qua. Come se praticamente la Fontana dovrebbe dire, io ho bisogno, voglio rinvescare il quartiere San Luca, ma invece qua mi avete messo al sole e mi manca l'acqua. È veramente, insomma, un pochettino assurdo. Che invito, praticamente, l'istituzione a farla funzionare perché ciò è giusto. Dato che è stato un regalo fatto, è giusto che praticamente il quartiere San Luca ne abbia veramente l'efficacia e che possa essere praticamente funzionante al 100%. Grazie, scusate, ma questo è il mio...